Beh, mi lasciate qualcosa qua su? Wow Oh Ma che c***o? Oh Eh Ma che arma è questa? Ho distrutto Lo Ho completamente ownnato Beh C***o sta la gente Basta 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Dove sparo? Va bene che è la prima partita del giorno Ma dove sparo? Vai apri sta roba Bella questa Eh c'era qualcun altro lo so Eccoli 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 Dove state bastardi? Ho visto? Ho visto? Ho visto? Ho visto? Ho visto? Allora Finite A pinna Pinna a pinna sono finite Niente Non si butta un cazzo Non si butta Avevo visto qualcosa qua sotto Scudini Allora Dai Dai raga dove cazzo state Non c'ho jump no Andiamo a caso Dai Minchia ma dove è la gente Non cazzo state finito? questo c4 è di merda finito, continua ahhh, sti cancri su sti c4 di merda muori ora ci dobbiamo curare falò non ne abbiamo, però abbiamo una jump non ne abbiamo il falò non ne abbiamo niente non trovo delle bende anche una una ci basta c'è un c4 c'è un kart dove è andato? mi dispiace per il tuo kart bro oh bello allora di qua si sparavano a colo le a colo le Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. No, no. Sì, sì. Sì. Oh, oh. Oh, I'm in trouble. No, no. che palle. Sì, sì. Sì, è un cazzo. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Basta che cazzo. E adesso. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Don't... Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì.